Anticipazioni Uomini e Donne. Rissa in studio tra Marco Cartasegna e Luca Onestini. Chi segue le vicende del trono classico di Uomini e Donne, sa bene che di recente è stato presentato il nuovo tronista giunto a sostituire Manuel Vallicella, l'ex corteggiatore di Ludovica Valli allontanatosi dal trono perché la situazione non lo metteva a suo agio e non lo faceva stare affatto bene con se stesso. Il nuovo tronista si chiama Marco Cartasegna e anche lui, come Luca Onestini, fa il modello. Milanese di nascita, con una famiglia molto unita e una carriera importante che l'ha portato a girare il mondo, il ben Marco in trasmissione cerca la donna dei suoi sogni, che potrebbe essere però una corteggiatrice del suo collega di trono Luca. Seconda parte delle news. I due tronisti in lotta per conquistare la bellissima Soleil. Ebbene sì, perché come avevano intuito diverse persone che hanno visto l'ultima puntata del trono classico andata in onda, quella in cui è stato presentato il nuovo tronista, il bel Marco è sembrato molto attratto da una ragazza in particolare. Non una corteggiatrice scesa per lui all'appuntamento al buio, bensì è una corteggiatrice di Luca Onestini. Stiamo parlando di Soleil Anastasia Sorge, la bellissima modella italo-americana che sembra essere la preferita di Luca, soprattutto da quando Giulia Latini è ormai calata vertiginosamente nelle sue preferenze. E Soleil ha preso un caffè con Marco, non negando che in futuro chissà, magari potrebbe pensare di uscirci in esterna. Ultima parte. La furia di Luca Onestini. E a questo punto Luca non ci ha visto più. Visibilmente contrariato dall'idea di dover condividere la sua preferita con un altro tronista, ha insultato abbastanza pesantemente il rivale, che a un certo punto si è molto infastidito e ha detto basta. I due ragazzi stavano quasi per arrivare alle mani, finché non è stata costretta a intervenire la stessa Maria De Filippi, spaventata da quel che poteva succedere. Come si farebbe con dei bambini discoli e indisciplinati, la conduttrice ha infatti punito Marco Cartasegna e Luca Onestini decidendo di separarli. Gianni Sperti è stato chiamato a sedersi tra di loro, ma non è servito a molto visto che sono continuati a volare insulti e parole poco carine, soprattutto da parte dell'ex Mister Italia è possibile che l'arrivo di un rivale abbia scatenato una gelosia così forte, facendogli capire all'improvviso l'entità dell'interesse nutrito per la bella Soleil? Secondo noi sì, e a occhio e croce ne vedremo davvero delle belle prossimamente.